Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. In A1 rallentamenti verso nord tra Calenzano e B1 variante per traffico, rallentamenti anche verso sud tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per chi proviene da Bologna inoltre coda in uscita a Firenze Scandicci e coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e coda a tratti tra Montecatini Terme e il Bibio con la A1 e il tutto in direzione Firenze. Arriviamo alla Firenze Pisa Livorno per lavori un chilometro di coda tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est sempre verso Firenze e coda a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Carreggio top posta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda in uscita a San Mignate e a Santa Croce. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze e possibili disagi per incidenti segnalati in viale Giacomo Matteotti e in via Simone Martini. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.